Avete mai pensato di adottare a distanza un albero da frutta scegliendone il tipo di frutto tra limoni e clementini, prediligendone la posizione in giardino e dandogli un nome? Questo fa Bior Farm, una piattaforma innovativa nata da un'idea di un giovane calabrese, Svaldo De Falco, che consente a chi vive nelle città italiane di coltivare a distanza alberi da frutta biologici in Medi in Calabria attraverso l'adozione interattiva. L'adozione virtuale di alberi da frutta mette in contatto gli agricoltori di frutta biologica certificata con il consumatore finale, che dopo aver adottato l'albero ne segue online, tramite un ciotablet, la crescita e la maturazione fino al giorno della raccolta. Un vero e proprio agricoltore 2.0. Entro 48 ore dal raccolto, poi, il consumatore riceverà la frutta del suo albero, benediciando di una filiera non corta ma cortissima. Con Biorfarm, spiega De Falco, fondatore della piattaforma, l'agricoltore biologico venderà il suo raccolto guadagnando qualche merita, mentre noi avremo la nostra frutta ad un prezzo inferiore rispetto a quello che siamo abituati a pagare. Un'innovazione unica nel suo genere, che permette ai consumatori di trasformarsi in agricoltori e di essere dunque sicuri delle origini dei prodotti alimentari che porteranno sulle loro tavole.